La terza partita di campionato sarà Farma e Biareggio, l'avversario Raffaele Farigna. Come arriva la squadra? Evidentemente a questo numero importante di match, sono quattro le sfide consecutive che si disputeranno a Ciron Marina. Abbiamo fatto un gran lavoro dopo il Coppa Italia, arriviamo forti per vincere quattro partite e arrivare forte in etapa finale. Quattro sfide senz'altro importanti, perché in ordine Biareggio, Pisa, Catania Football Club e Friuli Venezia Giulia sono avversari probanti, però è chiaro che dopo sbet si deve fare trovare pronta. Sì, è un avversario troppo difficile, è un calore, quattro partite pesanti, però la nostra squadra è fortissima e siamo pronti, siamo pronti per tutti i giochi. Sarà un periodo molto stressante da un punto di vista chiaro di impegni, perché si giocherà praticamente sette partite in due fine settimana e poi evidentemente si deve fare bottino per arrivare a San Benedetto del Tronto. Quali sono secondo te gli ingredienti, Raffaele, per arrivare pronti in queste sfide già da domani? È un giro di tutte le squadre, la nostra squadra è forte, il giro di tutte le squadre, giorni per giorni, per arrivare tutti insieme, tutti forti, in ultima etapa in San Benedetto. Raffaele, tu alla rete in Coppa Italia del 2-0, che non è servita per portare un trofeo a casa, però serve il riscatto soprattutto adesso in campo, dopo quella partita lì. Questa partita io cambio il mio golo per il titolo, però non l'ho affatto, quindi lavoriamo, lavoriamo, continuiamo insieme, continuiamo forti, siamo pronti per la prossima etapa, la prossima vincere di Scudetto. Ti lascio ai tuoi ragazzi già a cerchio per la seduta di allenamento di vigilia, grazie a Raffaele Farinia e in bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie, forza Catania.